Siamo in un bel guaio, stasera riprende lo spettacolo di Streller dove lavora Luisa, quella cretina, e se non si presenta la cacciano e addio piccolo teatro, le stroncano la carriera. Non dovevamo andare al matrimonio, lo sapevo che avrebbe portato rogni e adesso siamo in un bel casino. No, c'è solamente una cosa da fare, mi presento io al posto di Luisa. Sì, sì, tanto delle prove le ho viste, per cui le cose che lei fa le so e nessuno se ne accorgerà, sei tranquillo. Non se ne accorgerà neanche Streller. No, d'altronde non possiamo rischiare che la cacciano e lei non si arrabbierà certo perché io prendo la sua parte, no, anzi mi dovrebbe ringraziare. No, è l'unica cosa da fare, adesso vado e faccio io le cose che quelle che lei faceva. Anzi, senti, per piacere, mi passeresti quell'asciugamano bianco a strisce blu? O blu a strisce bianche? Va beh, insomma, quello lì, ecco. Grazie. Un aperitivo e un'oliva, un'oliva e un aperitivo. Bel modo per non ubriacarsi. Sì, la prenderei a calci. Un aperitivo e un'oliva e un'oliva.